Sono contentissimo perché si è realizzato un sogno, aspettavo la vittoria in un grande giro e è arrivata alla Vuelta, ancora più bella forse perché il clima è super e poi io sono un mix, ogni tanto sono un passista e ogni tanto sono uno scalatore, dipende dalla giornata Ieri qual è il tuo giorno, passista o scalatore? Ieri ero un po' tutte e due, forse un po' più passista